San Marco d'Auronzo ospiterà tra sabato e domenica prossimi l'ormai classico convegno organizzato dalla pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Belluno-Feltre, quest'anno coadiuvata nella preparazione anche da altri uffici diocesani. Il seminario verterà sul tema sempre più attuale dell'ecologia, con accento particolare sulla partecipazione attiva della popolazione nei confronti della salvaguardia dell'ambiente. Io sono convinto che i problemi ambientali, come tutti gli altri, si risolvano prima di tutto partendo dal basso, cioè dalla vita di tutte le persone. Quindi il laboratorio può aiutarci a tradurre le idee che ascolteremo dalle relazioni nella vita concreta di tutti i giorni. Vogliamo cercare di capire se il problema ecologico è legato anche ad altre problematiche riguardanti l'uomo, soprattutto agli stili di vita e al lavoro, e sotto questo aspetto affrontare anche il problema. La Due Giorni ospiterà varie conferenze tenute da esperti del settore, seguiranno poi una tavola rotonda dei laboratori per la condivisione delle idee, con l'obiettivo di tradurre in soluzioni concrete le premesse presentate al convegno. Ma lo scopo ultimo dell'iniziativa, lo ha sottolineato anche il Vescovo Renato Marangoni, è la rivitalizzazione di quel senso di fiducia generale che negli ultimi tempi è andato smarrendosi. La fiducia è fondamentale perché senza fiducia si muore, e quindi la fiducia in se stessi, la fiducia nel proprio paese, la fiducia nella chiesa, nella politica, va in qualche modo riconquistata. Dipende molto dalle persone che vivono in questi ambiti, ma dipende anche da noi, dall'atteggiamento che noi assumiamo nei confronti di queste persone, nei confronti dei vari ambiti della vita.